Vantaggio e ha tolto. Lui è andato da Raccoi a negoziare per conto di Pugimont, l'ho visto su TV3 tra l'altro, ha detto però la realtà è questa, è che noi catalani siamo bravi a produrre, siamo i più bravi probabilmente e ci invidiano per questo, siamo i più bravi a fare economicamente, siamo i più internazionali, però sapete cosa c'è? Noi non siamo capaci di fare politica. Ora io mi auguro che questo non sia vero e che si ripossa con un recuperare il seno, come dite voi altri, cioè recuperare il seno significa cercare di capire e di evitare il peggio che cos'è? Quello di essere non rispettati nel resto, non più della Spagna, ma anche nel resto dell'Europa. Io quando, scusa e concludo, quando ho scritto delle cose favorevoli, insomma comunque strizzando l'occhio senza essere un indipendentista perché non lo sono, e mi dicono ma tu dai retta a quei matti dei catalani? Dici ma perché tu dai, perché tu, e questa cattiva stampa hai capito che hanno i catalani? C'è un problema insomma, c'è un problema di rendere questa vicenda politica, rimetterla nel senso giusto, cioè nel senso giusto delle cose, che sia vantaggiosa sul piano istituzionale, che sia rispettosa dell'identità catalana e che non sia vista come una baruffa tra voi, è uno Stato che tra l'altro è un grande Stato, erede di un impero e che ragiona e ha il riflesso condizionato di un impero. Noi italiani non ce l'abbiamo questa coscienza, ma quando parli della Francia, della Spagna, della Gran Bretagna, bisogna sapere che questi per un periodo lungo della storia hanno dominato il mondo, con che metodi? Non vogliamo neanche dirlo. E il riflesso condizionato dell'impero esiste, non è che non esiste, esiste. Poi dice vabbè ma quello è il re, chi l'ha eletto, chi non l'ha eletto? E quello è il re di Spagna. Quello la sera è arrivata alla televisione, invece di dire vabbè, è stato un disastro, però mi raccomandiamo, primo non facciamoci del male, secondo io vi voglio bene, catalanici, invece di fare un discorso fair, come avrebbe fatto qualsiasi uomo politico nel mondo, il, come si chiama il re di Spagna, è andato alla televisione, ha fatto un discorso per cui io mi metto ancora le mani nei capelli, diciamo della sua inopportunità politica, della sua... Noi siamo un grande paese e quindi qui si fa quel che... E temo che l'uso della forza politica, eccetera, possa tornare di nuovo, perché adesso ci sarà l'uso della forza della giustizia. Quindi il problema oggi dei catalani o degli indipendentisti, ma io parlo dei catalani e loro insieme, anche di coloro che sono catalanisti non indipendentisti, di non perdere l'indipendenza, la Repubblica non ci sarà. Il rischio è che si perde nuovamente l'autonomia. Questo è il rischio che io vedo, che la sconfitta, se non una lunga sconfitta, per cui si perde realisticamente l'autonomia. E non mi convince il fatto che ci saranno milioni di persone che scendono in piazza come a Maidan. non c'è, c'è, nel senso che ci sarà, ma non è la ribellione delle masse. Perché? Perché è una volontà democratica reale. Non è una rivoluzione, è una ribellione sociale. È una consapevolezza, è una presa di coscienza identitaria, vera, vera, che però non può trasformarsi in una lotta, diciamo così, religiosa, che può durare degli anni. È una lotta politica e, secondo me, va rivisto, e concludo veramente, scusatemi, va rivista la guida politica di questo movimento di massa che punta alla separazione o al riadeguamento del proprio rapporto con il Regno di Spagna che dura da 300 anni. No, brevissimamente, in realtà, per sottolineare, per ringraziare la signora, perché credo, in effetti, nonostante, condivido tantissimo delle vostre parole di entrambi, anche dell'analisi, appunto, sugli errori che sono stati fatti, però credo, appunto, ribadisco che, secondo me, anche c'è una questione di fondo, proprio quella tra legalità e diritto, cioè quale è la legge e quale è il diritto, quali sono i principi fondamentali e su cui, secondo me, c'è una grande opportunità per l'Europa e per l'Unione Europea veramente di fare dei passi avanti anche sulla questione di autodeterminazione, eccetera. È tutto vero, non c'è un grande... ci sarebbe un principio internazionale di diritto che, però, appunto, ogni volta è stato applicato in modo diverso, è stato molto difficile. Anche ancora nel 2015, Ban Ki-moon, allora segretario generale delle Nazioni Unite, ha detto che questo, appunto, riguardava solo un certo periodo, un certo epoca. Posso dire che personalmente non sono d'accordo, ma ovviamente non andiamo da nessuna parte. Rimane, appunto, una questione politica. E dunque la questione Catalogna, con tutte le sue varie sfumature, ma come anche la questione Scozia, come la questione in Belgio, come ce ne saranno tanti altri, credo sia un'opportunità oggi per questa Europa veramente di porsi delle domande importanti, di fare dei passi avanti, di ridivintare magari anche un faro democratico. Peraltro anche tutta questa vicenda accade in un momento in cui tutte le democrazie tradizionali sono sotto grande pressione, in cui anche tutti i partiti politici tradizionali sono in grande difficoltà. Dunque è evidente che ci vuole uno sforzo di dibattito, di immaginazione per rinventare in qualche modo le democrazie, o meglio la partecipazione democratica, senza, per noi, senza togliere all'idea della democrazia rappresentativa, dell'importanza delle istituzioni e della loro stabilità. Però io credo che la questione catalana può essere un'opportunità, se vissuta così, anche per la classe dirigente europea, per la classe dirigente spagnola si vede già che è difficile, per loro è comunque una questione che pesa anche sulla formazione del governo. Mi scuso se sono autoreferenziale parlando del Belgio, però appunto si è anche detto andiamo verso uno Stato federale, eccetera, in Belgio ancora non siamo federali, però insomma non riusciamo neanche più a formare un governo, probabilmente andremo a nuove elezioni federali all'inizio dell'anno prossimo, senza aver, ma neanche, non è che non ci siamo riusciti. Vanno vissuto come una opportunità di fare dei passi avanti importanti e di guardare alla questione più ampia della legalità, dello Stato diritto e della democrazia anche per far sognare magari di nuovo, gli europei, i cittadini europei. E in tutto questo, voglio dire, perché spesso a questi movimenti indipendentisti, e ripeto, personalmente non mi sento legata, cioè non capisco sempre l'idea dietro o la questione identitaria, però in effetti sono questioni anche molto personali e vanno rispettati in quel senso. Però io anche a tanti altri, a volte federalisti europei, che poi si schierano con la Francia, con la Francia, con la Spagna, anche in particolare il partito liberale, è vero che hanno anche tolto la parola liberale del gruppo perché ora è Renew Europe, si sono schierati con il governo di Madrid, però sono gli stessi che dicono di essere grandi federalisti europei. Io anche a loro vorrei chiedere qual è quel legame, quel nazionalismo che vi lega eternamente a degli stati nazionali che comunque sono ormai, sì, sono concetti di secoli fa che certo possono ancora avere un senso, però se dobbiamo fare dei passi avanti mi sembra difficile tenere veramente fermo a questa idea che quello che è stato fino a qualche anno fa dovrà rimanere per forza così anche andando avanti. Almeno, ripeto, discutiamone, cominciamo a dibatterne e ascoltare le ragioni degli altri. Grazie. Prima di passare la parola a Bojan per una risposta complessiva, qualche appunto. Non ci sarà un feticismo dei confini e degli stati nella politica e nell'opinione pubblica europea? Cioè, la paura in qualche modo che mettere semplicemente in discussione lo status quo, i confini, attraverso un processo democratico, attraverso appunto la politica e non attraverso la guerra, la violenza come è avvenuto in passato, metta comunque a rischio le sorti di questo continente, di questa civiltà. Questo dibattito lo sentiamo, questa paura, questo conformismo, l'incapacità, si diceva, di mettere in campo la politica. Io, insomma, seguendo la questione catalana, negli anni ho visto molta politica, probabilmente sviluppata, non sempre opportunamente, da parte della dirigenza catalana. È vero che c'è stata un'ingenuità, ad esempio, nella gestione della fase del referendum e della dichiarazione di indipendenza. È vero che si è sbagliata l'analisi sul possibile sostegno internazionale. Mi ricordo, ad esempio, che nel 2014 ci fu già un tentativo di referendum che fu proibito dal governo spagnolo e si ripiegò allora per non andare allo scontro in una consultazione di fatto autogestita. E nonostante questo, i responsabili politici, compreso Artur Mas, che non è mai stato indipendentista, sono stati processati e puniti dalla magistratura spagnola. Quindi questa politica, chi la deve mettere in campo? I catalani ci hanno provato, forse non l'hanno fatto a pieno, non l'hanno fatto con tutti i grismi, dall'altra parte però è mancata, sia da parte della Spagna che da parte dell'Unione Europea. Sì, gli stimoli sono tanti. Io parlerò su due cose perché mi sembrano forse forse i più interessanti. La prima riguarda la transizione. Quella della Spagna è effettivamente una transizione non compiuta perché c'è stato all'epoca l'impegno che poi si sarebbe arrivato arrivati a una seconda fase, una terza fase per portare a termine questa transizione. Tanto è vero che ad esempio voi ricorderete per fare un paragone voi ricorderete nella storia c'è stato un tribunale speciale in Italia, un tribunale speciale per la difesa dello Stato, un tribunale fascista che è stato disciolto che non esiste più da quando esiste della Repubblica Italiana i suoi giudici che sono che erano per lo più militari fanno altre hanno ormai sono morti tutti immagino ma facevano altre cose la serie di quel tribunale ha altri aveva avuto altri altri uffici e quindi è stato semplicemente sciolto non esisteva più Francisco Franco in un certo momento ha creato un proprio tribunale sulla falsariga di quello di Mussolini al momento della transizione con un decreto del re non con una legge è stata creata l'audienza nazionale e quel tribunale è stato sciolto ma l'audienza nazionale che tuttora esiste ha avuto sede nella stessa sede del tribunale di prima con gli stessi giudici del tribunale di prima e con le leggi speciali per combattere il terrorismo ed è tuttora in vigore sono tuttora in vigore queste leggi quindi una transizione che è di fatto incompiuta e sempre per fare un paragone con l'Italia voi ricorderete che abbiamo avuto qualche decennio fa un piccolo problema di un partito che si chiamava Lega Nord che voleva a tutti i costi la secessione e cosa hanno fatto gli italiani perché sapete l'Italia tutto sommato ha avuto Machiavelli non ha avuto Franco ha avuto Machiavelli l'Italia un tal Silvio Berlusconi ha preso quel partito l'ha messo nella coalizione l'ha portato nel governo e gli ha dato pensate un po' il ministero degli interni Maroni e praticamente ha una Grazie.